Tra le conseguenze dell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe esserci l'allungamento della vita della centrale a carbone di TVN. Lo ha annunciato il Premier Draghi. Un investimento di 300 milioni di euro a Fiumicino per un approdo per crociere Megaiot è quello programmato da Royal Caribbean, un progetto concorrenziale per Civitavecchia. Anche Civitavecchia partecipa alla mobilitazione di vicinanza all'Ucraina coinvolta nella guerra con la Russia. Domani dalle 17 a Corso Centocelle l'iniziativa dell'AMPI per promuovere la pace. Nuovo grido di allarme dei chiarotrasportatori. È stato siglato da circa 40 imprese un documento presentato ai committenti per chiedere la revisione delle tariffe. Si minaccia la sospensione del servizio. Dopo essersi aggiudicata la Coppa Italia di eccellenza, il Civitavecchia vince anche in campionato. In Errazzurri battono per 4-3 il Parioli con gol nel recupero di Pippi su calcio di rigore. Buonasera dal nostro telegiornale. Tra le conseguenze dell'attuale conflitto c'è quella di un sempre più inevitabile allungamento della vita della centrale a carbone di Torre Valdalica Nord. Il governo si prepara infatti a varare un piano straordinario che comprende la riapertura delle centrali a carbone già chiuse ed il massimo funzionamento di quelle esistenti. Allo Stato sembra praticamente impossibile che possa essere rispettata la data del 31 dicembre 2025 come uscita definitiva dalla carbone. Vediamo. Da un solo gruppo sui tre autorizzati che dal 2019 stava accompagnando all'uscita di scena la centrale a carbone di Torre Valdalica Nord, al funzionamento attuale a pieno regime e alla possibilità, nemmeno tanto fantascientifica, che venga attivato anche il quarto gruppo mai entrato in funzione nei quasi 15 anni di esercizio dell'impianto. È l'incredibile situazione che si sta determinando sia per l'enorme aumento del costo del gas che soprattutto per la guerra dichiarata dalla Russia all'Ucraina. Come ormai tutti sanno, l'Italia dipende in gran parte dal gas che arriva dalla ex Unione Sovietica per approvvigionare le centrali che consentono alle famiglie di poter avere l'elettricità in casa e alle attività produttive, da quelle industriali a quelle artigianali e commerciali, di funzionare. Era già quasi scontato che difficilmente l'Italia avrebbe potuto, senza dover fare ricorso a costosissimi acquisti di energia da altri paesi, con conseguenti ulteriori aumenti delle bollette, rispettare il limite del 31 dicembre 2025 per la chiusura delle centrali a carbone. Ma con la situazione internazionale in atto, il governo, che si trova a dover fare i conti con una situazione che rischia di fermare la ripresa economica in atto e di avere effetti devastanti sul fronte dell'inflazione, si trova costretto ad assumere decisioni forti. Tra queste, stando alle voci che circolano non solo negli ambienti politici, ma anche in quelli economico-finanziari, c'è quella di rimettere in funzione le centrali a carbone già dismesse e di utilizzare al massimo quelle, come Torre Valdaliga Nord, attualmente funzionanti. L'unico modo al momento per non creare problemi di mancanza di energia al paese è di frenare in qualche modo la spinta inflattiva. Senza contare poi che il passaggio alla transizione ecologica e a nuovi sistemi di produzione di energia non può arrivare con la classica bacchetta magica, perché l'attuazione di relativi progetti, soprattutto per gli impianti di una certa potenza e rilevanza, ha bisogno di tempo. La data del 31 dicembre 2025 quindi inevitabilmente si allontana. I carabinieri della sezione radiomobile di Civitavecchia hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 47 e 36 anni, entrambi di Civitavecchia e già con precedenti, indiziati del reato di furto aggravato in concorso, in quanto fermati mentre si allontanavano dall'esercizio commerciale di Viale Garibaldi, da cui era stata asportata della merce in vendita, correndo verso il lungomare di Civitavecchia. Poco prima i ritolari del negozio hanno denunciato di averli scoperti mentre trafugavano della merce, un paio di giacconi di un noto marchio sportivo per un valore complessivo di circa 300 euro. Il titolare, mentre l'inseguiva, ha chiamato il 112 e ha fornito all'operatore della centrale operativa di Via Antonio della Sangallo, continue informazioni sui movimenti dei due soggetti. L'autoradio di turno, che si trovava a poche centinaia di metri di distanza, è intervenuta e ha fermato i due che hanno anche cercato di disfarsi della refurtiva gettandola sulla spiaggia. Condotti in caserma, mentre la refurtiva è stata regolarmente restituita agli aventi diritto, i due sono stati arrestati e sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Sta creando non poche perplessità anche a livello nazionale, oltre all'opposizione delle associazioni ambientaliste della stessa autorità portuale, la decisione del gruppo Royal Caribbean, uno dei tre soci della locale RCT, di programmare un investimento di oltre 300 milioni di euro a Fiumicino per realizzare un approdo per navi da crociera e mega yacht. Un progetto dunque che diventerebbe più che concorrenziale per Civitavecchia. Vediamo. Può essere solo un caso, ma è singolare che l'iniziativa sia condotta da una delle tre società che praticamente i regimi di monopolio a fronte di una concessione quarantennale gestiscono il mercato delle crociere a Civitavecchia. Viene osservata a livello nazionale la decisione del gruppo Royal Caribbean di programmare un investimento di oltre 350 milioni di euro per realizzare un approdo a Fiumicino che preveda l'accoglimento delle navi da crociera e anche degli yacht di notevoli dimensioni. In sostanza all'interno dello stesso territorio, peraltro governato dallo stesso ente portuale, si creerebbe una poco simpatica concorrenza su due settori nei quali Civitavecchia sta puntando da tempo. La Royal Caribbean ha acquisito, pagandola oltre 11 milioni di euro, la concessione del porto turistico di Fiumicino, Isola Sacra. Nei programmi della società norvegese e statunitense, come spiega il magazine specializzato The Many Telegraph, ci sono l'introduzione di un accosto croceristico di nuova generazione per una singola nave rispondente agli standard più elevati di accoglienza dei propri ospiti e la rimodulazione della prevalente componente di portistica verso il target degli yacht di grandi dimensioni, coerentemente con l'attuale decisa evoluzione di questo segmento del mercato. Insomma, niente di diverso da quanto Civitavecchia sta conducendo da anni sul settore delle crociere, incrementato per alto recentemente attraverso la concessione temporanea fino al 2025 della banchina 25 Sud e di quanto sogna di vedere concretizzato una volta che potranno avere inizio i lavori per la realizzazione del marina yachting nello splendido scenario rappresentato dal tratto di mare antistante il forte Michelangelo. C'è da dire che il progetto della Royal Caribbean su Fiumicino, che deve ottenere ancora tutta una serie di nulla osta tra conferenze di servizi e valutazione di impatto ambientale, trova anche l'opposizione della stessa autorità portuale, ma la potente multinazionale non getta 11 milioni di euro dalla finestra e non programma di investirne altri 350 se non ha possibilità di vedere in qualche modo concretizzati i suoi programmi. E se quei programmi si realizzassero, come è facile intuire, il nuovo approdo di Fiumicino diventerebbe un concorrente più che temibile per Civitavecchia, visto che sarebbe vicinissimo all'aeroporto e soprattutto alla capitale. E come spiega The Medi Telegraph, il rischio che Fiumicino diventi alla fine l'hub italiano di Royal Caribbean, che a quel punto sposterebbe le navi da Civitavecchia è quanto mai concreto. Per non parlare poi della concorrenza nel settore dello yachting di lusso. Oltre 2.000 prenotazioni nell'arco di sole 48 ore. Iniziata bene la campagna di prenotazione del vaccino Novavax nel Lazio. Il siero proteico, tanto atteso da quanti dichiarano di non fidarsi di quelli prodotti a base di mRNA, a portare ad una consistente crescita delle prenotazioni sul portale regionale, che nelle ultime settimane stavano languendo, avendo praticamente il 90% della popolazione residente ricevuto già le diverse somministrazioni. Per questo, ormai da due settimane, gli hub vaccinali sono adesso liberi negli orari di apertura per favorire la partecipazione di tutti. Al momento superata la quota di 13.200.000 vaccini complessivi effettuati, il Lazio è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Sono state superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate e il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Per quanto riguarda i casi Covid, sono 32 quelli annunciati oggi a Civitavecchia, 5 invece i guariti. Anche Civitavecchia, come sta avvenendo in tutto il mondo, si mobilita contro la guerra in Ucraina. Si svolgerà domani a partire dalle 17 a Corso Centocelle davanti al Teatro Traiano, la manifestazione organizzata dalla sezione locale dell'Ampi contro la guerra per promuovere la pace. Hanno confermato la loro presenza anche le sezioni locali del Partito Democratico, dei Giovani Democratici, di Rifondazione Comunista e le Ardite. Le interviste. Allora, anche l'Ampi scende in campo naturalmente come sta accadendo a livello internazionale nel mondo intero. Tante sono le proteste e le manifestazioni anche nella stessa Russia, nella Russia, oltre che naturalmente in tutto il mondo occidentale. Allora, l'Ampi ha organizzato questa manifestazione che si terrà? Domani alle 17, l'anticipiamo di mezz'ora rispetto a quanto abbiamo previsto, la facciamo davanti al Teatro Traiano, un luogo dove abitualmente ci si incontra e riteniamo che la città risponderà bene. La città è il comprensorio perché l'abbiamo fatto insieme alle sezioni Ampi del territorio, rispondere bene per dare, come dire, una risposta seria, possente, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità ai problemi che l'invasione dei russi in Ucraina ha posto e credo sui quali dobbiamo dare necessariamente una risposta forte. Ci sono state adesioni? Sì, quella cosa hanno aderito alcune amministrazioni, sindacati, hanno aderito molti partiti, ha aderito la Curia, per cui ritengo che la partecipazione sarà una partecipazione importante se non massiccia. Dipende anche dalle condizioni del tempo perché il tempo almeno fino a ieri non è stato clemente. Quindi noi contiamo una risposta forte, dice vita vecchia, democratica affinché faccia sentire la sua voce nel corone più generale delle voci che si stanno arzando a livello, come dicevi tu, nazionale e anche mondiale. Volevo soltanto rinnovare l'invito a tutta la cittadinanza di partecipare a martedì a questa manifestazione per costruire insieme un mondo di pace e non più guerre che portano distruzioni, miserie e tante brutte cose. E non risolvono i problemi, e non risolvono mai i problemi. I problemi si risolvono con la diplomazia. Anche Civita Vecchia è pronta a raccogliere eventuali profughi in fuga dalle zone del conflitto in Ucraina. Il sindaco di Civita Vecchia, Ernesto Tedesco, ha risposto all'appello della Lega. In tal senso, le scene che vediamo sono purtroppo quelle di una vera e propria guerra. Offrire assistenza alla popolazione che non può rimanere nelle proprie case è un compito al quale non ci sottrarremo. L'accoglienza non sarà negata a chi scappa davvero dai missili e dalle bombe. Il circolo del Partito Democratico, rispondendo ad un appello del PD Lazio, mette a disposizione la propria sede in Via Friuli a Campo dell'Oro a partire da domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 di tutti i giorni feriali e dalle 10 alle 12 dei giorni festivi per raccogliere generi di prima necessità da inviare al popolo ucraino. In particolare si richiedono indumenti, scarpe, coperte e generi alimentari non deperibili. Cambiamo argomento. Un nuovo grido di allarme da parte degli autotrasportatori è stato siglato da circa 40 imprese un documento unitario presentato dai committenti per chiedere una revisione delle tariffe. Alla base della decisione da parte delle aziende agli aumenti che si sono registrati ultimamente, per esempio quello che riguarda il gasolio che costringe le imprese a lavorare in perdita. Gli autotrasportatori hanno dato una settimana di tempo ai committenti per rispondere, dopodiché il servizio di autotrasporto sarà sospeso. Patrizio Loffarelli, la presentazione di un documento firmato da diverse imprese, il messaggio è univoco, quello di rivedere le tariffe perché i costi sono diventati in sostanza insostenibili. Questo è stato un'azione molto importante che hanno fatto le imprese, che hanno intrapreso le imprese di autotrasporto operanti nel porto di Civitavecchia, dando una dimostrazione di compattezza e un senso di responsabilità importante. I fatti accaduti negli ultimi giorni dei fermi spontanei da parte delle imprese di autotrasporto, che sottolineano un grande disagio attuale per gli aumenti dei costi aziendali, sono comunque lampanti e segnano questo momento storico. Le imprese di Civitavecchia hanno fatto un discorso molto maturo, decidendo di unire il settore e il comparto e facendo un documento condiviso che a Sotir ha sottoscritto e che comunque è al loro fianco, dicendo che i costi ad oggi devono essere corrisposti comunque da una tariffa adeguata. È chiaro che vogliono continuare a svolgere i servizi di autotrasporto, ma se questi non sono giustamente retribuiti, non è escluso comunque che le imprese spengano i motori e attuino in questo modo una protesta vera e seria. Il punto cruciale è la sicurezza e poi anche i margini di guadagno per le aziende. Tutte le aziende associate che io rappresento adesso stanno in difficoltà e perciò il Civitavecchia ci vuole qualcosa di positivo, un confronto con la committenza a noi ci farebbe piacere poter ottenere qualcosa che ci supporta nei servizi che dobbiamo dare. Tutti i rincari che sono stati messi adesso a livello nazionale, noi li stiamo supportando, non si possono sopportare più. Dobbiamo riuscire a ottenere qualcosa di concreto per mandare avanti le nostre aziende. Claudio Donati ha sottolineato la vostra serietà nel presentare questo documento e ci si aspetta altrettanta serietà da parte della committenza in una risposta anche cellere perché parte oggi la settimana di tempo. Certamente sì, noi ci aspettiamo senso di responsabilità come lo stiamo dimostrando noi, le nostre imprese perché il momento è molto difficile per tutti, insomma il problema che noi abbiamo posto riguardi tutti, noi faremo una valutazione fatta in questi giorni e nei giorni prossimi, insomma la trattativa opportuna è necessaria tra i nostri vettori e i propri clienti e poi vedremo i risultati che escono fuori. Insomma, ripeto, sono abbastanza fiducioso perché mi sembra veramente impossibile immaginare in un quadro come questo atteggiamenti di poca responsabilità. In ogni caso poi vedremo se dovessimo essere costretti a fermare i mezzi, esatto, sospenderemo il servizio perché non si può lavorare rimettendo sopra i soldi, come si dice. Si è svolto il secondo dei quattro importanti appuntamenti dell'orchestra della filarmonica nella splendida cornice della cattedrale, un'emozionante esecuzione di Bach messa in risalto dal maestoso organo recentemente restaurato ed eseguito magistralmente dal maestro Luca Purchiaroni. L'iniziativa dal nome Concerti d'Inverno è diventata realtà grazie al sostegno e patrocinio della Fondazione Cariciv, dall'ospitalità della Diocesi e del Comune di Allumiere. Si tratta di un'iniziativa di grande spessore che vede i protagonisti di primo ordine, la cui notorietà ha superato da tempo i confini del nostro territorio. Il repertorio è tutto classico, Bach, Mozart, Beethoven, per citare solo i più conosciuti anche al pubblico profano. Biossidi di azoto in caduta libera stabili gli altri agenti inquinanti. È quanto emerge andando a leggere i dati riportati nel sesto report del 2022 relativo al periodo compreso tra il 14 e il 20 febbraio pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazzo attraverso l'analisi dei dati raccolti quotidianamente nelle centraline presenti nel territorio urbano. Dati che ancora una volta evidenziano una situazione ambientale tranquilla il servizio. Una consistente diminuzione dei biossidi di azoto ed una sostanziale stabilità per quanto concerne gli altri agenti inquinanti controllati. La situazione ambientale a Civitavecchia continua ad essere assolutamente nella norma. Il report diffuso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulla base dei dati forniti quotidianamente dalle centraline presenti in città e relativo al periodo compreso tra il 14 e il 20 febbraio mostra una situazione ottimale nonostante si siano espresse molte preoccupazioni per le consistenti fuoriuscite di fumo dalla ciminiera della centrale di Torre Valdaliga Nord. Anche nella settimana considerata tutti i valori certificati da Arpalazzo sono rimasti al di sotto dei limiti di legge e ancora una volta con valori nettamente inferiori rispetto a quelli riscontrati in altre realtà della regione ad esempio nella capitale. Nello specifico proprio per quanto concerne gli ossidi di diazoto nella centralina di via Morandi si è registrata una media di 24 microgrammi al metro cubo contro i 39 della settimana precedente. In via Roma si è passati da 80 a 47 microgrammi a Villa Albani da 53 a 32 e al porto da 46 a 31 microgrammi. Valori come già accennato notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del particolato ovvero delle polveri è stata di 17 microgrammi al metro cubo al porto uguale a quella della settimana precedente e di 20 microgrammi a Villa Albani, 4 in meno di quella rilevata dal 6 al 13 febbraio. Nel caso del PM10 o particolato la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Stabile a 0,5 microgrammi il valore del benzene misurato nella sola centralina di Fiumaretta è stabile anche il monossido di carbonio rimasto a 0,4 nel complesso della città. Sceso da 0,7 a 0,6 microgrammi in via Roma e salito da 1,1 a 1,2 microgrammi a Fiumaretta. Valori medi degli agenti inquinanti in calo anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 7 microgrammi. Seguono Aurelia con 8, Faro con 10, San Gordiano con 14, Campo dell'Oro con 15 e Fiumaretta con 17. Per quanto concerne invece il PM10 si va dai 13 microgrammi misurati ad Aurelia e Sant'Agostino ai 16 del Faro, ai 18 di Fiumaretta e San Gordiano per finire con i 19 di Campo dell'Oro. E apriamo la pagina sportiva parlando di basket. Virtualmente o ufficialmente che sia la Stemar 90 sta per agganciare la fase ad orologio in Cigold. Tutto questo grazie al successo del Palaricucci per 68-61 ai danni di Alfa Omega. I primi due quarti certificano la superiorità del quintetto di Ferdinando Di Maria che subisce però il ritorno degli avversari perdendo i 10 punti di vantaggio accumulati. Nell'ultimo quarto è battaglia senza respiro ma le scelte migliori fatte in attacco e l'attenzione mostrata in difesa hanno fatto la differenza in favore dei Civitavecchiesi. Su tutti i rossoneri ha capeggiato Spada, autore di ben 20 punti e trascinatore nel primo allungo. Ascoltiamo l'intervista a coach Di Maria. Ferdinando Di Maria, bentornato. Da un po' non ci diamo dal punto di vista televisivo. Trova la vita della stessa manovata, la vita che praticamente riconosciuta virtualmente, forse additura ufficialmente, la qualificazione alla fase ad orologio. Sì, sono stati tre mesi difficili, lunghi, oltretutto queste ultime due settimane sono state veramente snervanti dal punto di vista del gioco. Abbiamo fatto una gara veramente di cuore. Devo ringraziare i ragazzi se siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Oggi a vincere anche contro l'Alfa Omega in casa. Abbiamo fatto una partita dove anche i stessi under, che magari non hanno giocato, o chi ha avuto poco minutaggio, ci ha dato tanto in settimana. Veniamo da una settimana dove, scusami, in due settimane dove abbiamo perso prima Adair per una brutta distorsione alla caviglia e poi Curtis sul campo del Grotta Ferrata con una frattura al polso. Quindi contento, molto contento della partita fatta da parte dei ragazzi e ci meritavamo questa vittoria. Soprattutto nel finale, se riuscite a tirare fuori le energie migliori, quando Alfa Omega si è riportata davanti nel punteggio, lì dovevamo pensare un match che era diventato davvero complicato, invece poi non è stato così. Sì, alla fine abbiamo fatto... Ciao Curtis. Alla fine abbiamo fatto... è stata una partita difficile perché Alfa non ci ha creduto fino all'ultimo, ci hanno messo veramente in difficoltà, anche loro con i loro giocatori con lo zoccolo duro, diciamo, e noi anche con il nostro zoccolo duro siamo riusciti fortunatamente a spuntarla, è stata una vera battaglia. Loro ci hanno creduto fino alla fine, noi però l'abbiamo portata a casa e questa è la cosa importante questa sera. Palavolo, la sfida salvezza di Serie B1 del Palapanzani di Ladispoli è amarissima per la Margutta Civitalad che viene sconfitta nettamente per 3-0 dall'Isernia in quello che era uno snodo fondamentale in chiave salvezza. Hanno inciso le assenze di Vidotto Fabiani e anche di Esposito costretta all'isolamento domiciliare. Netta la superiorità delle molisane in tutti i parziali, anche se in alcuni momenti la squadra di Greci era andata in vantaggio e faceva ben sperare per un esito diverso. Si complica ulteriormente la classifica con la Civitalad che scivola sempre più in basso e con le speranze di rimonta che si affievoliscono. Passando alla Serie C da registrare la vittoria della Comal Civitavecchia Volley che ha sconfitto al Marconi di Sabaudia per 3-0 e continua a cullare il sogno play-off. Stop in Terra Viterbese invece per l'Etruria Volley capitolata per 3-1 in casa del Volley Life. Palla nuoto, sconfitta netta, preventivabile per la NC Civitavecchia in Serie A2. A Firenze i Rosso Celesti sono stati battuti per 18-8 dalla seconda forza del Girone Sud. Eppure la partenza aveva fatto ben sperare al cambio di metà basca. Le cose però sono cambiate e si è vista la differenza di forma tra le due squadre con Romiti e compagni che hanno pagato lo stop dettato dal Covid che non ha consentito al gruppo di allenarsi come avrebbe voluto. Poker proprio per Capitan Romiti. Regmi ricomincia con una sconfitta ma comunque con un punto incassato. Il campionato di Serie A per il CRC al Moretti della Marta la squadra di Mauro Tronca e Umberto Denisi ha ceduto per 19-16 al Perugia in una gara condizionata dal forte vento. Nel primo tempo i biancorossi hanno messo a segno tre calci di punizione con Nasello. Poi nella finale di parziale la meta a spartiacque degli Umbri. Nella ripresa i Civitavecchiesi hanno cercato di mantenere la pressione sugli avversari con la meta di Centracchio. Palla a mano, ritorno alla vittoria per la Flavioni nel match di recupero del campionato di Serie A2. Le Gelo Blu hanno sconfitto al Palasporti in Solera a Tamagnini la Licada per 33 a 27. Match spigoloso e difficoltoso nei primi 20 minuti. Poi la squadra di Pacifico prende fiducia e riesce ad allungare nella parziale andando a riposo con 6 gol di vantaggio nella ripresa. Le Gelo Blu danno spazio a tutte le ragazze presenti, soprattutto a quelle del Vivaio, ed allungano anche nel punteggio. 9 gol per Chiara Bonamano. E passiamo ad una segnalazione che ci arriva dalla nostra telespettatrice, la quale ci ha inviato una serie di foto sconcertanti. Gli scatti testimoniano la presenza di una discarica a cielo aperto al Marangone, in una zona che dovrebbe essere un fiore all'occhiello della nostra città. Buste secchi e rifiuti abbandonati, come si vede dalle foto che ci sono state inviate al posto del verde. In realtà si trova veramente di tutto. Si tratta di un vero e proprio scempio, afferma la cittadina. Sono indignata. Spero che le autorità competenti intervengano per risanare a dovere la situazione e magari installare dispositivi per monitorare la situazione e punire gli incivili. Come sempre, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, Youtube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Vi lascio con la trasmissione sportiva a ospiti d'eccezione, ovvero il presidente e il direttore sportivo della Civitavecchia Calcio, con tanto di Coppa conquistata da Nerazzurri la settimana scorsa. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.